te è arrivata finalmente sta notifica che aspettavi dai allora come stai tutto bene allora io invece ancora non sto bene come tu puoi benissimo sentire aspetta ma è stata a partire il colpo di tosse una cosa terribile quest'anno l'influenza due volte mi ha fregato stavolta proprio mi sei impossessata di me proprio non ne vuole più andare via allora voce bruttissima perdonami questo posso fa ti ho mandato questa notifica diciamola così perché ti voglio fare una piccola una piccola confidenza allora non so se qualcuno di voi segue instagram quindi vede quello che sta succedendo negli ultimi periodi sono entrato a far parte della schiera del format dei game of barber quindi sono impegnato anche lì e sono molto contento e felice di stare lì con persone come Douglas Mortimer come Santone dello Svavo e il Pancio e tanti altri amici beh è divertente perché anche su instagram che per me è anche una novità ho visto che c'è l'attenzione verso la rasatura tradizionale non riesco neanche a parlare bene la rasatura senti come parlo però sto messo poco male qualcuno mi sta a fare una magomba di quelle poco pesanti e sono molto contento quindi sto cercando di lavorare su tutti e due i settori in questo frangente lo dico anche per tutti quegli amici che vengono a trovare perché ho fatto l'annuncio soltanto su facebook ma non l'ho fatto qui che vengono a trovare il negozio amici miei il negozio adesso momentaneamente l'ho chiuso e sto facendo online l'ho chiuso perché sto cercando una nuova sistemazione un punto diverso con un po' più de movimento quindi se volete per quanto riguarda il discorso dei prodotti così il sito rimane apri chiudo parentesi ma non l'avevo detto perdonatemi è una cosa che mi è passata un po' demente per quanto riguarda il preambolo di stasera e anche l'informazione che ti volevo dare oltre a questa che ti ho dato è che vorrei riproporre nuovamente una programmazione del canale in modo tale di essere un po' più costante anche nei vostri rispetti perché vi vedo che mi scrivete di continuo ma vi vedete quando esci quando ti sbarbi o te devi fare barba o non puoi annangirlo così o dai fammi sto video bene tranquillo ritorno ritorno a pieno regime logicamente sempre considerando impegni della vita quello non ci posso fare niente per quanto riguarda la programmazione sto pensando appunto sui soliti tre giorni a settimana magari uno è facilmente spostabile da un giorno all'altro ma non fa niente però il preambolo sta anche in questo e poi anticipa alcuni prodotti che utilizzerò domani quindi il video che farò domani avrà questa senti eh non mi prende per scemo aspetta che gli do questa botta con quest'altro perché no che è? tu direi che è il gong? no non ho visto e ne ho sentito parlare in tanti gruppi di rasatura sempre le recensioni abbastanza positive comoda, pratica, indistruttibile, carina, simpatica quello che ti pare insomma la famosissima, te la presento la famosissima ciotola turca poi chi baffi me la sotto sta bene oh fate lo screen eh? ce sta eh? ciotola turca, eccola qua tutta bella forata guarda che bella il rame ed effettivamente avendola già provata ti posso assicurare che il suo lavoro lo fa benissimo è un po' piccolina perché mi sembra che sono 12 cm di larghezza e 6 cm di altezza ma va più che bene per chi non vuole spendere troppo ciotola turca poi altra cosa che ho visto in giro e come ragazzino non ho potuto far meno di non comprarla l'ho comprata soltanto per l'immagine stampata sopra perché è veramente troppo bella sei pronto? c'è Bruce Lee sui la mente non so come vanno penso che vengano fatte in Cina non riesco a leggere quello che c'è scritto quindi non mi chiede una cippa perché non te so rispondere ma solo per l'immagine che Bruce Lee l'ho presa mo domani le provo insieme a lui ah scusa così no mi vedi sempre dietro eh? quindi domani noi ci vediamo domani ci vediamo ah aspetta ma si dimentica che concludo perché non ti dico il sapore perché hanno trovato questo odore qua particolare che è la colonia Kanzuk sempre turca quindi rimango un po' su sull'internazionale sulla Turchia e sulla Cina che è la mente perché c'è sta c'è un po' d'Italia e poi l'altra cosa non te lo dico eccolo qui turca questa c'ha c'è il suo perché c'è il suo perché effettivamente quel quel profumo leggero del tabacco si sente poi domani ti spiego meglio quindi saprai domani anche che tipo di sapone utilizzerò quale sapone già l'hai visto da me lo vedi dappertutto ma più di quello non te lo voglio dire quindi ti lascio un attimo all'immaginazione magari lo scrivi nei commenti se te va e niente noi ci vediamo domani mi raccomando tanto il video te lo sparo dopo pranzo quindi avrei già bello che digerito starei su bel divano che tanto ormai le feste sono finite quindi non bisogna andare più nei centri commerciali a passare le ore per fare i regali ci avrei un po' più di tempo per te e noi si beccamo domani scusa ancora la voce scusa anche il ritardo delle varie comunicazioni ma è giusto che sia così no? l'importante è che ho detto e poi del resto ma boh amico mio noi si beccamo domani come dico sempre buoni acquisti e buone sbarbate da Luca ciao buone sbarbate Grazie a tutti.